Il design sistemico progetta le relazioni tra i componenti che generano il sistema, valorizza l'identità e le risorse locali e produce sviluppo e benessere per il singolo e la collettività. Le relazioni tra i componenti si generano attraverso l'interazione per trovare un equilibrio. Il risultato è la qualità del sistema creato. L'identità nasce dalla consapevolezza dei propri valori, che si esprimono attraverso i comportamenti. Il confronto tra comunità locali produce una cultura glocale. Agendo in maniera innovativa sui processi e le loro relazioni, si crea un'economia definita Blue Economy. La crescita avviene per autopoiesi e ciò che si ottiene è uno sviluppo sostenibile. Grazie a tutti.